Parma 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 Le femmine che farò, ai settembre tornerò, sono pronto e tocca a me. Un viaggio lontano, qua e là per il mondo, per cercare le idee di chi ci sta intorno. Per gacciare nella mente, laddove c'è un vuoto, le abitudini, gli usi, il pensiero degli altri. Un viaggio lontano, con i mezzi che hai, e confronti le idee, ed i dubbi che sai. Per prendere coscienza e chiarire i pensieri.